stella si è iniziata a schiuccare la vita ma io so se è tua non lo so e no ci siamo tutti nella ricordatura io sono stato seduto fuori tipo top model allora i cuccioli dormono siete pronti per la missione vabbulatale così dormiamo da noi facciamo con uno schiacco di dita ok adesso adesso siamo sceso abbiamo un'ultima missione da compiere ragazzi chi è che va in porticato? no ma è tu anche stella che sai dov'è? sì voi congelerete? sono buona ce la fai? è pesantissimo bello mettila dritta 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 dai così si vede quando toglie il lenzuolo no no metti la carta regalo si aspetta che lo stai spendendo e vedo se vuoi vedere con il campionista se vuoi vedere con il campionista se vuoi vedere con il campionista ti sei uno scotch vuoi per cui? si dai ricchi ha avuto un'idea non si sa dove sta a mano ricchi ha avuto un'idea da quando? siamo ripresa dalla situazione è il fiocco lo sapevo non ero certa ma sì anche io lo volevo mettere il fiocco ok bellissimo possiamo andare a dormire adesso sì buon Natale buon Natale buon Natale e ben ovei giorni di Christmas buongiorno com'è che siete tutti qua? buongiorno e buone Natale sì Nico ci sei? oh ma ci siete tutti 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 ricchi ci sei anche tu? ok allora comincio a scendere io vediamo speriamo in bene speriamo in bene ma buon Natale sì ebbene sì ragazzi è passata anche quest'anno venite a vedere che pensate? ho sonno allora mamma mia C'è anche una roba stranissima lì dietro, un lenzuolo, sopra c'è scritto Max, boh! Forse Max avrà un lenzuolo! Un lenzuolo, grazie! Allora, che facciamo? Cominciamo? Sì! Ok, da dove cominciamo? Comincio a... Rompo il ghiaccio! Vai, vai, Wawina! Questa, che è qui sotto da tanto tempo, è il primo che c'era qui sotto! Esatto, vorrei proprio vederlo! Dal giorno in cui l'ho visto mi stavo domandando che... Allora, questo è da... Questo non so cosa sia... Una scatola vuota! Una scatola vuota! Oh! Una scatola! Nooo! Che bella! Molto bella! Fantastica! Che è bellissima! È bellissima! Che bella! Bella, bella! Mi piace un sacco! Ed è anche piccola, vedo che hai imparato come si scelgo a portagli per me! È piccola! È piccola! È piccola! Come sta? Come sta? Molto bene, è molto carina! Dai, Elena, inizia anche tu che ti vedo in torpidazione! Vai, Elena! Vai, Elena! Anche Nicolino! Anche Nicolino! Allora, posso distribuire io? Che so! Allora, beh, quello di Elena si vede! Sì! Nico, partiamo dal pezzo forte? Sì! Ecco, fragile, c'è scritto! Sì! Ecco! Allora! Che so! Ma cosa sarà? Nicola! La mamma è Ale! E questo? Anche! Tutti i regali vostri sono! Oh, meno male che non è capito! Non è capito! Cosa è? Non si capisce! Ah, che amore! Beh! Ah, Elena ha aperto nel frattempo! Elena, fammi vedere! La familiar fashion! Allora! Della famiglia! Alzati su! Allora! Allora! Aiuto! Anche se sei in piedi è complicata la cosa! Tra le cose in mano! Nico! Wow! Wow! La ti amo! Wow! Andra! Fai vedere la magliettina! E sopra la magliettina cosa ci metti? Sì! Una salopet gattina! Wow! Intenta con il capello! Prova dei capelli! Wow! Sacro silenzio! Sì! C'è la mamma! C'è la mamma! Ah, Nico! Ciao! Ciao, Nico! Abbiamo messo tanto a cercarne un rambello! Ti guarda che bel colore dietro! È della taglia giusta per le tue manine! Cercavamo un telefono grande, ma non troppo! In modo che tu potessi vedere tutte le cose bene, ma non troppo in modo che tenerele in mano non fosse troppo scomodo! Una cover per il piacere! Sì! Una cover! Aspetta! C'è un altro regalo per Nico! Fermi tutti! Nico! Apre questo! Ecco! Grazie! Perché... Sono apposta così! Sì! 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 Poi mi ha piaccio di te, Nico! Sì! 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 Che bella, Nick! Ti piace? Sì! Sì! Vai pure! Allora, mettiamo! Guardate! Il pulsante evidentemente! Sì! Quando lo stai mettendo dentro se hai provato la pulsante! Ah! Ho capito! Eh sì! Max! È una scatola! È un rosso! Guarda di colore! Mi hai tirato un leone! Ok! Ah! Tung! Ah! Tung! Ah! Porbici, please! Sì! Porbici! Non è ancora capito? Eh... Beh, c'è scritto chairs, quindi... E con un ciclo particolare! Massimo! Vedete che fa, Massimo! Dai, facciamo la sedia, forza! Anche Valeria che dice una sedia! Ah! Non ci posso credere! E poi sfatti me! E poi sfatti me! E poi sfatti me! Sei molto peggio! Ma... Ma io mi ricordo... Ma io mi ricordo... Posso portare un flashback al mio compleanno? In cui Valeria ha detto... Ma siamo andati all'IKEA! Cosa doveva dire! È vero! Tu pensi a un momo con tu oggi! Le formici per mare! E allora sono qualcosa... Comunque... Questa è... Sì sì! E anche l'IKEA! E anche l'IKEA! L'IKEA per questo è idiota! Una sedia da gamer! Sìiii! Ovviamente non quella che sta.. Nonostante giocare nella prima cosa. E anche quella di... Una Diabolo! Cioè, insomma, è vero Rikki! Questa serie l'ho trovata io! Davvero mi manca sotto il computer! E questa serie l'ho trovata io! Sempre da me e Ale ci siamo indebitati praticamente! Mancava anche la taschiera, la taschiera! Felicità! Adesso Massimo può aprire nel frattempo Allora, andate! Andiamo Elena! Sono riuscite da aprire, è l'unica cosa che sapevo! Questa è la serie! Allora, devo svegliare che cosa hai perché non lo capirai! Non capirai! Bene, vatti bene! Balla! A meno che mi devono le liste! Vai, scusami il mio telefono dove cacchiacerai! Ma lo senti? Cioè, è silenzioso! Ciao! 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 C'è anche questo per Max's camera Venga qua! Nico, se stai lì copriai la videotavera! Se stai lì copriai la videotavera! Stai lì insieme? Sì, come abbiamo fatto per anni! Ah, è la misura! Capitanismo! Sì! 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 Certo che l'ho visto! Come? Ti vado a vedere! Ti vado a vedere! Sempre data! Per contesto io preferisco la prima cosa! Allora! Eh? Per contesto io preferisco la prima cosa! Esatto! E io sono imparziale! Beh! Che uomo colto! Certo, la cultura fondamentale ce l'abbiamo! Beh! Potremmo vedere il mio! Accidenta, Ga! Ga! Spendiamo il tuo, Elena! Wow! Leggings! Neri! Neri! Del tutto! Sì! Così! Grazie! Sì! Wow! E' un vestitino! Lo puoi portare anche a scuola! Non lo voglio capirlo! E' il più carino! E' il più carino che l'abbia visto! Sì! Oh! Che bello! Veramente carino! Hai fatto bene! Oh! Questa è mia grande soddisfazione! Spero che ti vadano! Se no li prenderò io! Ok! Ci sentiamo dopo! Ciao! Ciao! Vada! 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 Prova a vedere se ti vanno! Perché a me vanno! Io ho preso un 38! Se a te vanno vanno anche a me! A ore mio! E la Mostrub manda roba anche oggi! Eh sì! Li manda sempre! Aspetta! Possiamo apprezzare tutti i miei calzini? Bellissimi! E tu chi mi sembra? Sì! Allora io devo prendere le carine di Vicky! Un pochino! Ti vanno? Benissimo! Ok sono due! Ti piacciono? Sì! E il regalo che ho avuto in studio! Vediamo lo studio! Vediamo! Vediamo! Che! Wow! Un bellissimo libro dotti! Mannaggia! Sì! Che luci sono! È stato bello di una pietà gialla! C'è un regalo senza roba! Grazie Simona! Grazie! Grazie! Ciao Simona! Ciao Simona! Ciao Simona! Ciao Simona! Allora! Ok? Wow! Mmmh! Senti che profumo! Mamma mia! Quanti prodotti? Uuuuuh! Shine! Uuuuh! Bellissima! Un creにci!!!! E' enorme, che figata! Allora, guardate la cover decente! Ma guardate! E' bellissima! Ah, non era molto orgogliosa di questa cover! Si si si! Non ve lo sto a ripetere! E' tutto doppio, abbiamo fatto tutto insieme! Perciò ci siamo tutti sbizzarrire! Hai visto che carità? Guarda! Guarda! Così trovo questa merda marroncina! Guarda la differenza! That was silicone! Anche questa probabilmente succederà la stessa cosa, però... Non è spessissima, però spero che insomma... Sei riconosa! Sì! Sai quello, queste cose le vedi solo quando arriva! Sembra più nuovo il telefono! Si! Io apro ancora questo di Simona! No, non ci posso credere! Praticamente io Simona ci siamo fatti lo stesso regalo! Senti molto prevenibili! Oddio! Felicità e abbraccio della sera! Grande! Dov'è Nicola? Nicola! 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 Cosa? Si sta sistemando il telefono! Qui c'è un regalo con i tuoi cuccioli! E chi sono i tuoi cuccioli? Ah si? Questo è per tutti e due! Siiii! Esattamente! Guarda è gigante! Prendi il telefono! Prendi il telefono! Prendi la fase! Prendi la fase! Prendi la fase! Aspetta aiuto! Guarda tutto! E' il tiranoppi! Hai capito dov'è? Sì! Forse perché ci sono cose grandi! Sai Nico che ci giocavamo da piccoli! Adesso lo montiamo eh! Così sta! Oggi ci potete giocare! Io ho creato la mia costruzione! Ah questo l'ha scelto Vali per te! Oh che bello! Una tuta in file! Come quella di? Quella di Marty! Esatto! Come sei! Come quella di Marty! Quando l'ho vista, siccome sapevo appunto che Marty se l'era comprata ha detto No! Le la devo prendere anch'io! È bella! Questa diventerà una delle minore magliette preferite! Mami! Questo è tuo da parte mia! Oh! La garantisce! Questa sono fatto in transizione! Sopra 15 kg! Sopra 15 kg! Sopra 15 kg! Sono 25 kg! Allora! Questa è una cosa che non si è da oggi stesse! Proprio quando l'ho visto ho detto! Cioè l'ho visto su Youtube! Ah! Ho detto questa è la sostituzione per qualcosa che mi cercavi! Eh! È una sostituzione per qualcosa che mi cercavi! Eh! Che faccio il tolto! Se si sfocia! Se si sfocia molto! Eh! 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 Pedic головistica puoi provare. Sentiamo subito! Proviamo subito! asprai di мама! Grazie amore! Grazie! Sì, è vero! Infatti lo stavo cettellinando! Grazie! Ha perché ho visto una mia Danke in Arancia! Stia madre ha fatto un calendario dell'Avvento di Zara non sapendo cosa ci fosse dentro! Sì! e sopra c'è scritto Zara Emotion, che è una cosa che non sapevo cosa fosse perché nessuno sapeva neanche lei cosa fosse in realtà è una collaborazione di Zara con una marca di profumi abbastanza famose ma pensate bene? più costosi si che si chiama Gio Malone ah ma dai diceva no io volevo comprarmi i cani di Gio Malone, però non l'ho presa perché ci sono 100 euro per gli Zara la veciamostamente e quando ho sentito questo fa, no ma questo è proprio il profumo della pastiera a me piacciono un sacco di profumi di questo genere perché dovrebbero fare più cose con quel profumo perché è buono da mangiare ed è anche buono il profumo ma no io ho detto questa ragazza ora non voglio conoscerla ho detto questa ragazza e ho detto no devo cercarlo e lei ha cercato dopo è buonissimo qui è arrivata la sedia vecchia grazie ah questo questo non lo so ah no 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 questo qui è bello però non è quello si è bello ma non è quello ah felpa fel è un vestito felpa esattamente che è vero come io ho utilizzo le felpi in realtà ti piace? mi devi nero si ah si quello lì ci teniamo tantissimo è stata un'idea di Ale che belle che belle e mamma ringrazio pensavo che se non ci fossi quando ce l'arrivate perché ce l'ha scritto più grosso come la casa si wow perché si ricordava che ti piacevano quelle di Elena belle sono bellissime non abbiamo trovato la stessa striscia dello stesso colore di quelle di Elena eh vabbè però anche così è bella capi? non è proprio altrimenti le abbiamo cercate tantissimo perché per un attimo ce l'ha sembrato di averle viste belle belle vero? bellissime prova il numero ma guarda le ho confrontate vicino alle superga e sono uguali al 40 della superga si arrivo e aspetta che sono assi di vedere se vanno le scarpe avali non le scarpe avali le abbiamo prese proprio sul sito della Puma si si mi vanno ok perfetto sono super comode mi sento belle davvero super belle si sono proprio belle quando le ho viste le ho fatto subito la foto per mandargli e fargliela vedere perché erano ancora più belle che nell'immagine bellissime come sta aprendo questa volta? non so cosa stai aprendo non lo so tada pacchetto molto originale lo voglio ed aprire per chi è quello? tutte e tre tutte e tre questo ci tengo tantissimo stella apri ok se è quello che penso io ti amo perché ti amo già di principio ovviamente però penso che potrebbe essere quello che pensi beh io la mi... o se non è quello che pensi mia madre mi conosce molto molto bene cioè questo è un'ope però cioè si ma come mi conosci bene mia madre? aspetta aspetta la bella pirata aspetta quello è un extra che mettono loro a ogni corsetto c'è questa magica cosa facciamo vinta che sia una bella pirata? si è una bella pirata oppure una mascherina particolare si se vuoi c'è anche la gonnellina hai visto? si un po' short però con due pezzi è pezzo ci metti qualcosa sotto io avrò questo io avrò questo i legs termici esatto guarda che già mi convito perché è ciccione morbidoso è ciccione già con la caramella gigantesca guarda che ciccione sono 40 addio non lo so allora ho preso 40 non mi ricordo sto vedendo una cosa ah ho cercato di fare il paragone con le tue superga e ho scelto io voglio fare la reazione di Elena questa cosa ho letto un po' di... si sa a me che cresce ta 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 ooooo credo che sia la cosa su Elena che è questa che felice ci piace amore attenzione piano 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 che c'è una cerniera qualcosa aspetta 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 faccio io così diciamo di rompere qualcosa questo Elena è la svolta della tua vita guarda ci sono i gancetti guarda che così ci sono dei gancetti vuoi provarlo sul pigiama? dai lei ha fatto un gancetto si voilà beh saluto si vede che se si era usata Massimo lì c'è un paccone cosetto di chi? ah beh il fatto che voi si è accorto dice tanto della mia... della felicità qui c'è un'ereglia è pesante mi aiuto mmm cosa può... è tanto rossa allora vediamo se è indovinata no non è indovinata dici che non è indovinata no comunque prima l'avevo... no perché all'epoca non sapevo ancora che tu volessi... ah ma Elia questo è un legalo per me e una sorpresa per lei è il momento di fare un po' di caso dobbiamo no cominciare a prepararci la palestra dobbiamo no cominciare a prepararci la palestra dobbiamo prepararci la gym eh me la so pure sto già questo è che sia stelle ma... si stelle ma... oh si apri tu dai Ricky ah ok questa è l'aggiunta è una cosa molto stupida l'altro è che è carino ah beh cos'è? ah beh carino e il porta... è lì a poco di teiera carino eh beh hai ragione molto carino però aprite l'altro che l'altro è più bello si ok apri questo da parte eh Elena sapevo nooo mi fa distruggere il mondo mi fa già distrutto mi ha distrutto mostra un po' cos'è fa vedere ne sono fiera ne sono fiera infatti se faccio dal lato giusto è facile allora sono andata a spiegare questi si spiega sono saponi solidi si nel senso sono saponette si però sono anche di shampoo ma dai è fatto per il plastic free ah cioè il ragionamento che volevo fare è che ci sono due tipi ci sono quelli con i cubettini tipo le cifre sacco vetto per avere le dimensioni che tu te ne porti uno in doccia sfreghi sfreghi però quelli non avevano nessuna certificazione quindi eh questi invece sono certificati e quindi tieni la saponetta nella e te la metti e lo shampoo che figata e ce ne sono due per me ha un buonissimo olore che figata anche io me ne aveva regalato una volta uno jessica aveva un odore potentissimo allora Anna questo è dal nonno Nico c'è un regalo dal nonno vieni sì ah sì qua Nico sì per la la nostra regina col pellicciotto e la corona anche il caldo ha preso la corona anche Nicola ha preso e Nicola guarda cos'è questa ah che bella me la credo ti piace questa è ma questa era già una torcia di sì mi piace ah sì io conosco è una torcia mi piace ti piace allora questo è il ciocchietto della best che sono cose per me il mio regalo principale però non c'entrano di esse solo che mi serviva un contenitore allora abbiamo prendiamo un po' di carta insieme abbiamo fatto un po' vabbè poi prendiamo tutto abbiamo finito perché se abbiamo finito io apro il mio regalo principale che è questo mi sa che mi devo montare esattamente mamma montiamo le orecchie questa è la mano è la montatrice comparerei con il mio ma il mio a caricare in questo momento che bello e c'è scritto c'era scritto di aprirlo dopo mantieni la sorpresa apri il tuo regalo prima di aprire questa busta ah e la fattura eh perché sennò c'era scritto che cos'era ah c'è il messaggio di auguri grazie c'è una storia di fatture in questa casa la maglietta verde è arrivata che mamma non c'era per fortuna perché il pacco aveva sopra tutto bene impacchettato e sopra la fattura che ho scritto cosa fosse all'interno ah si grazie Ale è bellissima con qualche coppa proprio da vita oh assoluta happy christmas e adesso possiamo mettere in pensione la mi band che avevo messo con il braccialetto rosso natale qual'è il quale è la password del Huawei? eh 7D te la mette Mac Eriki poi aspettate che non sono mica finiti per voi perché passate il mio telefono e abbiamo avuto grande indecisione dove l'ho messo? e tra questa roba allora bellissimo ecco sta per arrivarvi sul cellulare un regalo un ulteriore regalo e un regalo dal nonno ok che carina è che carina che bella sei bellissima te che è questo però sei ancora più carina infatti mi vado a mettere qualcosa posso fermare il video? si due una ho vinto ah io sono moro si sono moro è bellissimo che ricordi i fanno ero piccola ma siete bravissimi non le fate neanche uscire a me usciva sempre se ti viene premuta non escono eh? se ti viene premuta non escono no invece quando le mammo non hai premuto in curva uscivano sempre la tecnologia avanza auguri buon natale buon natale a tutti iscrivetevi al canale eeeh lo stanno nemmeno stimolando bellissima bellissima il mammo dalle reali in massima età ok che mamma vuoi hai cambiato? ma allora tu dici la cosa se ne dici in persona eh 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 non lo so eh ci conviene dai ok 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 ok